Tocca, ok? Allora, adesso E' arrivato il giallo prima, non se lo vuole. Vai Andrea, ce la puoi fare, reggimi sto primo piano, per favore. E' un totale Andrea, non è nemmeno un primo piano. Ce la faranno? Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Shack 3, 15. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Evitate di sporcare il fuoco. Non so perché, non mi ha detto il fuoco. Llevatelo se dovete diragliare. Allora, magari gliel'ho venuto. Ma facciamo una niente. Non incadiamo la pazza. Cavallo? Ah, ora son bello eh. E di là che c'è? Mi sa che dobbiamo fare un pochino groppi di vita. Ti sta un po' largo di vita amore. No, la bambina ci sta pure che è così. Sì, un po', un po' sì. Dov'è lo specchio? Io dovremmo con un ossetto rosso. Un po' più escollato. Ma questa è sponissima. Tantiglia, un interesso tracco. Sì, è una roba oscena. Mi fai paura. No, ma sai che cosa succede fisicamente se non riesce a sfondare quel vero. Ma secondo me fisicamente succede che spacca il muro e il vero. No, no, sai che dobbiamo fare? Eh? Delicatissimo. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Infatti, ho sicuro che stavo bene così. E' andato un po' di tempo. Non la facendo. No, possiamo andare. Allora, a me Matteo mi dice stai seduto. Stai seduto. Io sto seduto. Nel senso, cioè io faccio quello che mi dicono di fare. No, no, me lo faccio. Fatti questo. Allora. No, no, non la faccio. No, non la faccio. No, non la faccio. No, non la faccio. Ci parlo, ci parlo. Ci parlo. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. si accende i baroni però se togliere il lino dal vento più basso, secondo me sono più calato in questa città vivi che partono e morti che restano l'unica cosa che ancora si muove rimane soltanto la pezza del mare che manualità il G l'hai prese con le calze io non posso immaginare quando mio padre vedrà questo video tante madonde verranno giù ma io non capisco ma c'è un po' di voce il portapacco non è?